cara Francesca leggiamo, vieni vieni, segui la mia destra leggiamo insieme il verdetto allora, si aggiudica il titolo di Miss Senigallia 2024 in questa magnifica e magica serata la concorrente questa sera in gara con il numero 15, vittoria eh sì, proprio tu, complimenti, quindi Coroncina, complimenti, grazie a te, complimenti allora, Coroncina, fascia dal nostro assessore abbiamo il fan club gadget tra mesi, aspetto abbiamo anche Miluna, giusto? ok, vieni vieni, se vuoi ti aiuto, dammi pure gioiello Miluna, che adesso ti verrà messo, appunto, al collo, quindi ti verrà fatto indossare se non ce la fai mettiamo qui la scatolina, come ogni sera del resto gioiello Miluna veramente è un gesto spontaneo e Miss Italia è tutto questo complimenti, tu sei Miss Senigallia 2024, quindi il tuo percorso prosegue per le finali regionali della nostra regione allora, adesso, ecco qua, il gioiello Miluna prego ce la facciamo, eh qualche secondo